E' partita da alcune segnalazioni di operazioni sospette l'indagine avviata nel 2021 dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania finalizzata ad approfondire le movimentazioni anomale di capitali da parte di un imprenditore cilentano a carico del quale gravava un debito con il fisco di oltre un milione di euro. L'imprenditore, indagato ora assieme a due familiari per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, è stato raggiunto dal decreto di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e risorse finanziarie per oltre 3 milioni di euro disposto dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Una serie di operazioni bancarie hanno certificato i trasferimenti di denaro a mezzo a segni, bonifici, ricariche di carte prepagate, depositi di contanti provenienti dallo smobilizzo di titoli finalizzati a svuotare i propri conti correnti in modo da scongiurare o comunque ostacolare eventuali azioni di recupero crediti da parte dell'erario. Inoltre, sempre per lo stesso motivo, la moglie dell'imprenditore ha emesso nel corso del tempo assegni circolari per decine o addirittura centinaia di migliaia di euro, risultati poi non essere mai stati incassati dai beneficiari.